Gian Paolo Santin di Ferrag, perché affidarsi a Ferrag nell'intralogistica come Total Solution Provider? Ferrag ha soluzioni nel settore intralogistico per coprire l'intera catena del valore e in questo caso siamo in grado di fornire soluzioni che vanno dai sistemi di selezione, quindi di sorting, a tutti i sistemi di buffering e di conveyor per arrivare alla fornitura di magazzini automatici con sistemi di movimentazione logistica interna presso sostanzialmente una moltitudine di settori che vanno dal fashion alla grande distribuzione, automotive piuttosto che e-commerce e sostanzialmente tutto quello che riguarda il mondo produttivo. Siamo presenti in 18 paesi, curiamo direttamente vendita e assistenza fornendo al cliente finale una garanzia di affidabilità.